È stata inaugurata presso le sale espositive di Palazzo Gregoris in corso Vittorio Emanuele a Pordenone la mostra Il disegno e la mia voce, in cui sono esposte le opere del giovane affermato artista Alberto Magri. Si tratta di quasi un centinaio di disegni compiuti, bozzetti, studi preparatori per pubblicazioni, acquerelli e opere pittoriche che spaziano da temi storici, naturalistici, sacri e profani a quelli legati alle problematiche sociali. Una mostra organizzata soprattutto per avvicinare i ragazzi all'arte. Questa mostra è il coronamento di un insieme di miei progetti, soprattutto editoriali, di vari libri che ho realizzato nel corso di una decina d'anni e forse anche più, composta da schizzi, dipinti, di vari formati, all'obiettivo di coinvolgere soprattutto i giovani perché credo che sia importante divulgare gli aspetti storico, artistici e naturalistici del nostro territorio. Di mio credo proprio fortemente che non serve andare chissà dove per cercare un senso di meraviglia. Le cose meravigliose ce le abbiamo attorno a noi, basta saperle cogliere. E mi piacerebbe che questa mia grande passione, questa sensibilità per la natura, ma per il mio territorio, possa avvicinare appunto i ragazzi, le scuole, perché soprattutto in periodi post-pandemici questi ragazzi, questi bambini hanno veramente delle difficoltà a reagire e ad uscire in questa sorta di bolla che li rende come soli, senza più stimoli. E credo che sia l'ora anche di trasmettere a questi ragazzi che c'è la possibilità di fermarsi, riflettere, pensare lento e cogliere quei piccoli indizi che stanno intorno a noi. Nel caso di questa mostra la curatela è sostanzialmente consistita in un'operazione di scelta, nel contesto di un materiale estremamente ampio, che è quello della produzione grafica di Alberto Magri degli ultimi 15 anni, confluito a suo tempo in varie pubblicazioni, in vari libri, un materiale particolarmente ampio perché naturalmente è consistito non solo dei disegni, delle immagini finali che poi quei libri hanno composto, ma anche di tutti gli schizzi, abbozzi, fasi preliminari altrettanto interessanti che quindi noi abbiamo proposto in mostra in una serie di pannelli che scorrono lungo le pareti un po' come se fossero le pagine di un unico libro. L'esposizione è patrocinata dal Comune di Pordenone in collaborazione con la società operaia che ha messo a disposizione i locali di Palazzo Gregoris. La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile fino al 7 aprile 2023 con i seguenti orari venerdì e sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per effettuare visite guidate con l'autore scrivere a albertomagri.art.gmail.com